Ciao a tutti, io sono Robetta, sto preparando per l'allestimento di Beppe e Suana. A breve scopriremo se sarà un bimbo o una bimba e nulla, vi lascio a tutti adesso. Grazie a tutti. Il suo latte dentro me e ti amerò come accade nelle favole per sempre. Ti aspetterò senza andar via come fanno già le rondini nell'aria nella terra mia che invecchia ma. Sulla scia di un'altra età ballando sogna, mentre la tenera luce dell'est all'alba illumina speranze cinestre. E il cielo è così, celeste, celeste. Sarà lui, sarà lei, sarà parte di noi. Sarà il cuore mamma, la regina e il papà. Prova già immagina a chi posso umidia, che difetti c'è mio carattere. Io sono Pasquale, il papà di Suana sarà lei. Io non potrò dire se sarà un lui o una lei perché sono l'unica della famiglia a conoscere già il sesso di questo bambino. Credo che lei si stia confondendo. Sono molto emozionata perché per me è come se nascesse un figlio. Sì, si confonde. E auguro ai miei cugini tutta la felicità di questo mondo. Perché la loro felicità è anche la mia. Li amo. Ma mi faccia il piacere, ce ne vado. Ciao Giuseppe e Suana, auguri per me credo che sarà una femminuccia. Tanti auguri a Suana e Giuseppe. Per me è un maschetto. Auguri a Peppe e Suana, per me è una bella femminuccia. Vamos! Buonasera. Faccio tanti auguri a Suana e Peppe. Sperando o maschio o femminuccia. Io dico che è maschio. Però basta che sta bene di salute. Tutto qua. Vogliamo la loro gioia. Vogliamo la loro... Vogliamo la loro... Io ti esorcizzo! Vogliamo la loro gioia. Ok, grazie. Auguri... Auguri a Giuseppe e a Suana. Con tanto amore e felicità. Per voi sarà un maschetto o una femminuccia? Spero una femminuccia, però c'ho la certezza di sensazione che è un maschetto. C'ho la certezza di sensazione che è un maschetto. Un auguri a Peppe Moscia che merita e farà il maschetto per mettere il nome di suo padre. Tantissimi auguri alla mia nipotina speciale. Un bacio a Peppe e per me sarà un maschetto. Auguri a Suana, sei la mia cuginetta del cuore e ti auguro tanta felicità per chi la meriti e per me è una femminuccia. Tantissimi auguri a Suana, ti voglio bene e per me è una femminuccia. Auguri a Suana e a Giuseppe per questo nome arrivo. Noi ti fiamo maschetto perché lui vuole il cuginetto. Dì, e parla. Maschetto. Maschetto, noi ti fiamo Vittorio. Allora, per me è lo stesso perché i primi figli sono sempre belli. Il maschetto femminuccio è sempre la stessa cosa mio nipote. Quindi. Facciamo un augurio speciale ragazzi. Tanti auguri e tanta felicità. Allora, miei cari cugini, voglio augurare prima di tutto che questo bimbo stia benissimo. Poi che sia maschio, che sia femmina, ma chi se ne frega. Belli come siete voi questo bambino. Qua sarà uno spettacolo. Io vi auguro che siate sempre felici, ragazzi, ve lo meritate. Vi voglio un mondo di bene. Tanti auguri Suana per me e... No, io mi sento che è maschio, però vorrei la femmina, però... Ciao ragazzi. Io vorrei la femminuccia per la compagnia delle mie bimbe. Che crescerebbero insieme come siamo cresciute noi. Però sono contenta anche se è maschietto perché so che Giuseppe vorrebbe il maschietto. Con bacio e vi auguro tanta felicità. Vi voglio bene. Per me è un maschietto. Sei un maschietto come lo chiami? Vittorio. Sei femminuccia? Nicole. Per me è un maschietto. Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura. Ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. E' un'ala soltanto e riusciremo a volare. 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 Grazie a tutti.